I reati contestati sono corruzione, turbata libertà degli incanti, truffa ai danni dello Stato, reati tributari, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e occultamento o distruzione delle scritture contabili e autoriciclaggio delle somme indebitamente percepite. A finire nei guai è D e B, queste le sue iniziali, imprenditori dell'Alta Valtellina, operante nel campo dell'edilizia, in particolare tra Bormio e Val di Sotto. La sua ditta con sede a Cepina è l'impresa di costruzioni generali più grande e importante dell'Alta Valle. Dal 2015 opera anche all'estero. I finanzieri del Comando Provinciale di Sondrio hanno eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del capoluogo dottor Antonio De Rosa, su richiesta del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Sondrio e dei sostituti procuratori Stefano Latorre e Maria Lina Contaldo. Nei confronti dell'imprenditore, principale artefice dei reati e mente di numerose condotte illecite, è stata riconosciuta l'esigenza della custodia cautelare in carcere per pericolo di recidiva e pericolo di inquinamento delle prove. Oltre all'imprenditore in carcere sono altri quattro gli indagati, tra cui funzionari pubblici compiacenti. Sono accusati dai magistrati di Sondrio di aver rilasciato concessioni edilizie all'imprenditore in cambio di soldi e favore come lavori edili gratuiti o scontati. Le indagini sono iniziate nel 2016 e in questi anni sono state condotte dalla tenenza della Guardia di Finanza di Bormio e coordinate della Procura della Repubblica di Sondrio. Le indagini hanno visto coinvolto in particolare il mondo dell'imprenditoria, il mondo dei professionisti e quindi soprattutto dei consulenti fiscali e commercialisti e il mondo anche del settore pubblico. Le indagini di Polizia Economico-Finanziaria inquadrate nell'operazione denominata Monte Carlo hanno fatto emergere un quadro sociale a dir poco inquietante. Da un lato esecuzioni di lavori di costruzione a titolo gratuito fortemente scontati e dall'altro concessioni edilizie da parte di persone compiacenti. Telle condotte hanno permesso all'imprenditore arrestato di conseguire un agente vantaggio economico. Vantaggio economico consistito nella vendita da parte dell'imprenditore di complessi residenziali realizzati grazie alle concessioni edilizie ottenute da persone compiacenti e poi trasferito su conti correnti in Svizzera in modo da ostacolarne l'identificazione e impiegarlo in ulteriori attività economiche finanziarie. L'imprenditore inoltre grazie a una fitta rete di relazioni è stato capace di turbare una serie di gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche. Le indagini sono tuttora in corso e sono in corso di esecuzione perquisizioni e sequestri perquisizioni e sequestri di bene per oltre 31 milioni di euro nei confronti dell'imprenditore di cinque società immobiliari a lui riconducibili e di altri quattro coindagati. Che sono principalmente consulenti fiscali e commercialisti. Grazie.